Non lo so Non lo so C'è un'altra giampa inascoltabile per favore Trille che non si sa cosa sia Questa è la quince E io ho un diciassette Un corso qui Mi hanno inciso solo uno Poi da diciassette si fa tipo Diciassette diciotto Diciassette B Poi volendo si potrebbe fare uno zero Dicca ci sta sempre uno zero Lo dico zero C 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 R6 bar R6, di farti tipo così. Ma che cari sono? Quello che non ti ha fai tipo... Ah, fai tipo così. Yes! Eh, prima di ciò, uno slide.